E' arrivato il momento della nostra rubrica sull'italiani all'estero, uno spazio che abbiamo inaugurato settimane fa per raccontare senza filtri gli sviluppi di questa emergenza negli altri paesi. Oggi abbiamo in collegamento da Francoforte in Germania Nicola Puccinelli, che è un ingegnere project manager. Nicola, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Nicola, spieghiamo un attimo ai nostri telespettatori che tu in questo momento sei a Francoforte, ma da dove arrivi proprio? Allora, io arrivo da Delhi, era da gennaio che sono in India per lavoro. In realtà ho iniziato a dicembre scorso, per un mese, poi sono arrivato in India già all'inizio gennaio. e sto seguendo i lavori per la riparazione di un ponte a circa un'ora e mezzo di aereo dal Delhi. Beh, come mai? Com'è la situazione lì? Hai avuto problemi a rientrare? Noi sappiamo che in India, lo diciamo ai nostri telespettatori, il lockdown è iniziato il 24 marzo. Inizialmente doveva durare giusto 21 giorni, ma poi tutto faceva presagire un prolungamento. Cosa ci racconti tu Nicola? Allora, il lockdown è iniziato in maniera molto improvvisa. Il primo ministro ha annunciato il lockdown alle sei di sera e è iniziato dalla mezzanotte. Per cui, dal giorno successivo non era più possibile spostarsi anche all'interno degli stessi stati dell'India. Per cui, tanti italiani si sono trovati bloccati più o meno dove stavano, dove erano in vacanza, dove eravamo al lavoro. Io per fortuna in questo momento mi trovavo a Delhi, nell'ufficio della ditta per cui lavoro, per cui in un albergo. La mia esperienza in realtà non è stata, diciamo, molto traumatica. Sono rimasto nello stesso albergo dove stavo prima, anche se l'albergo stesso ha chiuso. Mi sono trovato praticamente da solo nell'albergo, con il personale che mi portava da mangiare due volte al giorno. Quindi tu, Nicola, non hai avuto modo neanche di vedere quello che si sono verificati diversi disagi in India, cittadini presi addirittura abbastonate perché stavano lavorando, anche esodi di massa di persone che lavorano in città e vivono nelle campagne, non potendo permettersi un mezzo di trasporto adeguato, sono andati a piedi. Hai avuto modo di vedere qualcosa del genere? Sì, li ho visti attraverso le notizie, in realtà, sui telegiornali. Gli esodi di massa, in realtà, mi sono trovato davanti all'albergo. L'albergo era sulla strada principale che porta da Delhi, verso Agra, dove c'è il Taimajal. E da lì c'erano diverse persone che si incamminavano e andavano verso casa. Il fatto è che quando il lockdown è stato annunciato, i trasporti sono stati subito paralizzati e per cui molti lavoratori delle grandi città si sono trovati senza lavoro, praticamente, cioè senza il salario, per cui sono stati costretti a tornare a casa. Tu invece, Andrea, come stai? Sei contento di rientrare? Io? Nicola, scusami. Sì, sono contento di rientrare. Scusami. La mia famiglia è in Italia ora. Di solito ci spostiamo tutti insieme, ma questa volta per il progetto in India ho deciso di andare da solo. Però sono in Italia, per cui sono contentissimo di rientrare. E come hai vissuto questa emergenza lontano, sapendo che la tua famiglia, tu hai una moglie e una bimba piccola, se non sbaglio? Sì. Allora, in realtà è stata una situazione abbastanza strana, perché mia moglie è cinese. All'inizio il problema principale era in Cina, quindi eravamo abbastanza contenti che lei si trovasse in Italia, insieme alla bimba. Poi diciamo che la situazione si è ribaltata e, beh, fortunatamente, insomma, nella zona dove vivo è la situazione abbastanza sotto controllo, per cui nessuno di loro ha avuto nessun problema. Bene, Nicola, io ti ringrazio, ti ringrazio. Però la preoccupazione era anche di rimanere bloccato in India e ci fosse bisogno di, ci fosse qualche problema a casa, per cui sarei rimasto bloccato qua. E quella, diciamo, era la mia preoccupazione principale. Per fortuna stai rientrando, dai. Grazie mille, Nicola, grazie per averci voluto raccontare la tua esperienza. Io ti auguro un sereno ritorno a casa e ti auguro che quando, appunto, rientrerai dalla tua famiglia, le cose andranno migliorando anche per noi in Italia. Grazie, Nicola, buona giornata. Grazie.